Ehi la turma! Video particolare un po' tutto di corsa vlog per dire due pensieri Ieri mi è successo un avvenimento e volevo condividerlo con voi In pratica stavo prendendo un treno per arrivare a Torino e c'era una coincidenza a una determinata stazione Solo che la coincidenza era con il treno che da Milano va a Torino che è un regionale veloce Quindi non aspetta mai, non gliene frega un Kaiser Quindi può esserci la gente che arriva sul binario e lui parte Perché se a quel minuto preciso deve partire è l'unico proveniente che cerca di essere in orario di tutta la flotta di Trenitalia Però non perdona E ieri appunto dovevo prendere questo Milano-Torino a un certo punto della sua tratta Dovevo fare un cambio E il controllore sul treno è passato dicendo Voi dovete precipitarvi subito al binario numero 2 Correte, fate tutto il possibile Per cortesia non passate sui binari Nel sottopasso, non si passa sui binari Conosco, cioè no, non conosco Però so di gente che ci ha lasciato le penne per questa storia qua E precipitatevi subito al binario 2 Perché in genere ci sono due minuti per il cambio Noi avevamo otto minuti di ritardo Loro ne avevano sei di ritardo Però quindi vuol dire che quei due minuti non esistevano più E arrivavamo in coincidenza nello stesso preciso istante alla stazione E quindi a un certo punto Siamo partiti una quarantina di persone Appena si aprono le porte Vroom, giù dalle scale Una è volata giù dalle scale Si è rialzata Non lo so Chi si ferma è perduto Quindi non so più quella signora Mi auguro che abbia preso il treno Però sgarruppata giù per le scale Le ha fatte tutte di sedere Arriviamo al binario numero 2 E il treno stava già partendo Cioè quando noi abbiamo iniziato a scendere le scale Il treno stava già chiudendo le porte Però per fortuna la vita è bella La vita è bella E la gioventù non è così debosciata Come ci vogliono far credere Due splendidi ragazzi A cui devo praticamente la vita a questo punto Visto che c'era la gente all'altro binario Che stava cercando di ammazzarsi Per arrivare a prendere quel treno Hanno avuto un'idea fulminante, geniale subito E si sono messi Con tutte le loro forze A tenere la porta Per impedire che la porta si chiudesse Cosa vuol dire? Che quindi visto che la porta era bloccata E non si poteva chiudere Il treno non poteva partire E quindi il controllore nel frattempo Si è avviato per controllare cosa c'era Che bloccava la porta Perché non riuscivano a partire E nel mentre che il controllore Si faceva tutto il treno Questi due ragazzi Forza e tenacia Sovraumana Perché La porta quando decide di chiudersi È una scelta che ormai È partita E quindi Non è così semplice Ad interrompere Ci siamo tutti e 40 Infilati da quell'unica porta Del treno Che ancora era rimasta aperta Per il sacrificio di questi due ragazzi E così Siamo riusciti tutti Credo anche la signora Che si è sgarpata dalle scale Siamo riusciti tutti A entrare Prima che il controllore arrivasse Sti due ragazzi Si sono salvati E hanno salvato la nostra vita Anche perché Altrimenti avremmo dovuto aspettare Tre quarti d'ora Per il prossimo treno Per arrivare a Torino Perché è sempre un'odissea In questi casi E Ce l'abbiamo Cioè sembrava impossibile Ma Per questi due ragazzi Ce l'abbiamo fatta E questa mattina Svegliandomi Io ho pensato Cribbio Io fossi stato Nel loro panno Ma 16-18 anni Erano abbastanza giovani Cioè nel senso Non è che erano Che ne so Dei ragazzi 30-35 anni Nei loro panni Io da ragazzo giovane Uno non avrei avuto Minimamente l'idea Due non avrei avuto Minimamente il coraggio Di mettermi a fare Un atto Cioè Ci sono un sacco Di costrutti Che ci facciamo Ah no ma Poi quello E' una cosa Che non si fa E se arriva il controllore E se poi dopo Invece dovevano prendere L'altro Io mi faccio un sacco Di trip mentali Questi due ragazzi Per fortuna Per grazia Di non so che cosa Divina Del caso Di quello che volete voi Non hanno fatto Tutti questi trip mentali Hanno avuto L'idea Più lampante Più geniale Che poteva esserci In quel momento E hanno salvato la vita Tutti noi Quarantina di persone Che dovevamo prendere Sto famoso treno E quindi stamattina Mi sono alzato Ho detto In qualche modo Devo ringraziarle In qualche modo Devo trasmettere Questo messaggio Ed è per questo Che alle 5 del mattino Di mattina Sto registrando questo video Grazie Grazie Non vedrete mai questo video Ma grazie Mi avete salvato la vita Sono felicissimo Che la vita sia così bella E che ci sia qualcuno Che pensa agli altri Intanto E niente Buona giornata a tutti Ciao 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 Ciao